Ho finito di essere polemica, ok, basta, la finisco, però io vado fuori di testa quando leggo che, o Dio, io non ho mai sentito i miei muscoli lavorare in questa maniera. Buono per me, ovviamente, ma non per i clienti che si affidano a dei professionisti. Il copia e incolla non esiste! Cazzo! Buongiorno, anzi, buongiorno. Mi ha appena scritto Federico D'Avella che è da lui praticamente grandina e oggi avevamo un servizio fotografico. Ma che cavolo di tempo c'è? Ma non ci perdiamo d'animo perché questo servizio fotografico sa da fare con il mio Ivano e, infatti, 5thians Cup of Power e quindi andiamo a Trieste per un check. Ecco, e sono super mega contenta anche se stanca, manca poco, e quelli che mi tirano su sono i miei ragazzi del team che mi stanno offendendo da stamattina perché hanno DOMS dovunque. Non perché sia cattiva, ma perché comunque bisogna cambiare il sistema di lavoro sempre perché ricordate che se abituate il vostro corpo a un determinato tipo di protocollo protratto per troppo tempo non funziona. E quindi ecco perché esiste lo studio, l'aggiornamento e non esiste copia e incolla. Quindi cerchiamo di fare colleghi un lavoro buono.